E allora Alex ci siamo, siamo ai momenti dei saluti e dei ringraziamenti, vogliamo richiamare la padrona di casa, sindaca Mary Marziali accompagnata da un cavaliere, sempre noi rispettosi della Parcondicio, Marco Marinangeli consigliere regionale, consigliere di consegno anche i fiori, e allora, perché il nostro territorio è veramente fucina, qual è il rovescio della medaglia Alex? Anche se lo inventiamo qualche cosa di negativo nei due confronti non lo possiamo dire. Io ho conosciuto Alex un annetto fa circa e devo dire che ho trovato un ragazzo brillante, dinamico e intraprendente. Quell'intraprendenza che lo sta portando a fare lavori importanti ma soprattutto a crescere. Soprattutto ho visto in te quell'elemento che è essenziale per fare bene qualsiasi cosa, che è la passione. Passione nelle cose in cui uno crede e scommette e quindi tu rappresenti quella parte di gioventù che ha voglia di mettersi in gioco e quindi hai tutta la mia stima e complimenti. Su questa iniziativa che hai fatto, la mia chiave di lettura perché è stato interessante sentire un po' tutte le posizioni, però ho interpretato quella volontà giovanile, che poi è stata anche di fasce diverse, di non arrendersi ad una situazione che purtroppo ho visto tutti allo stesso livello e tutti in enorme difficoltà. Ecco, fare quella scelta, portarla avanti con le modalità con cui l'hai portata avanti appunto sta a testimoniare che comunque se ci crediamo qualsiasi difficoltà la possiamo risolvere. Quindi complimenti ancora e approfitto del sindaco per fare i complimenti a te, all'amministrazione e a Montrubiano per questo splendido teatro e diciamo anche che è rientrato nei 62 teatri delle Marche per i quali stiamo intraprendendo un percorso che ci auguriamo di arrivare a buon fine che prevederà una competizione, perché di questo si tratta, nel riconoscere tutti i 62 teatri delle Marche come patrimonio dell'UNESCO e questo sarebbe per noi, per la regione Marche, qualche cosa di eccezionale. Complimenti ancora e complimenti ad Alex e al suo collaboratore molto brillante. Grazie Marco. Grazie. 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 Grazie.